Rolande è arrivato un primo risultato dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, è stato revocato lo sciopero da parte dei lavoratori della GSA, avete ottenuto delle prime importanti risposte? Sì, intanto c'è stato il riconoscimento del sindacato che in questa impresa di fatto non esisteva, quindi abbiamo posto le basi per fare in modo di creare delle condizioni di lavoro più dignitosi e per fare in modo che questi lavoratori possano avere non tanto delle condizioni migliori per quanto attiene gli aspetti normativi, gli aspetti che riguardano la sicurezza, ma migliorare anche le loro condizioni retributive economiche. Noi chiediamo da questo accordo che abbiamo sottoscritto ieri, deve costituire la base per fare in modo che a questi lavoratori possa essere applicato il contratto dei guardi a fuochi, che è il contratto sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative di CGL, CISLE-GUIL. Ricordiamo che questi lavoratori sono impiegati sulle autostrade abruzzesi A14, A24 e A25, dove ci sono molte gallerie. Sì, allora fondamentalmente l'accordo sottoscritto ieri che in qualche modo era partito 6-7 mesi fa con le prime proteste qui in Abruzzo, adesso interesserà circa 5.000 dipendenti che sono tutti gli operatori che operano in questa impresa e in prossimità delle gallerie che sono ubicate nei cantieri autostradali. In Abruzzo, nelle Marche, stiamo parlando di circa 17 gallerie, quindi 17 cantieri nei quali operano questi lavoratori per un totale di circa 120 dipendenti, quindi sono risposte sicuramente importanti.